Scuola paritaria Jean-Jacques Rousseau, complesso scolastico. L'istituzione scolastica di recente costituzione offre un modello di insegnamento innovativo e flessibile basato sull'utilizzo del computer e sulla comunicazione online fra famiglia e scuola. Il programma didattico è personalizzato in base allo studente per meglio promuovere la formazione di una personalità completa, capace di autonomia di giudizio, intraprendenza progettuale e consapevolezza critica.